Un grande saluto alla regina del video, un grosso bacio con l'augurio di un ottimo inizio settimana anche da parte di Ombretta, da Gianni di Modena, a cui vale un granissimo abbraccio, grazie Gianni, grazie Ombretta. E poi ho ancora il sapere alla pupazzola che ci voleva ringraziare anche le tante persone che dopo l'ospicata qui a Liscio come l'olio hanno acquistato, richiesto, prenotato il lavoro di sociografico di Davide Montali, un lavoro di sociografico che sta rispettando molto successo. Io vi invito veramente ad ascoltare questo CD e ad ascoltarlo perché ci sono alcune canzoni che sono gradevolissime in macchina mentre guidate, avete fatto i lavori, insomma, proprio come cornice musicale della vostra giornata. E ci sono canzoni anche molto belle, assolutamente da ascoltare quasi in stato di meditazione, quindi vi portano veramente in un'altra dimensione, vi fanno stare, questa è la cosa più bella e più importante. Grazie.